bella ragia oggi vi voglio far vedere un leach con jesse e il rap di notte in roba salto basta che ci sia vi faccio vedere una cosa che non sarà il mattale come vediamo la torretta è mattale in diversa realtà però è diventato dei consigli per per tanti minuti questo è veramente roba assalto che si è fatto di molti e dunque dovete gliciare la torretta al centro potrebbe spaccarsi la torretta ok potrà venire il stato da bombardino ma ho detto no vedete la torretta così è immortale quindi si cioè è abbastanza una cosa migliore perché non esiste in trovo avanti se vedete ora in questo modo potrebbe spaccarsi la torretta però visto che ho cominciato spara la torretta se spara in questo modo dovrebbe iniziare la torretta nella faccia e si vede immortale se poi vabbè ho fatto c'è adesso bombardino mi stava vedete mi distrugge la torretta ma è finissimo che la torretta ma è finissimo che la torretta ma è finissimo che adesso cominciamo e perdiamo e basta che dobbiamo farlo e quindi lì ci sono non è finissimo 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 è un'ultima sedia per esempio l'attività è finissimo non è finissimo non è finissimo adesso se avete i gadget e la torretta è perfetto quindi noi andiamo a parare cioè abbiamo la lista questa è lì è molto interessante è molto interessante non dobbiamo morire possiamo ma non dobbiamo morire perché possiamo come vedete la ultima in questo modo ci sono è un'segretto diciamo è un'segretto ma si trovi perché si trovi è un'segretto è un'segretto c'è il fatto che è bellissimo non l'ho visto da nessuna parte c'è uno che ho provato ho buttato un ratero a casa mentre non ho trovato la casa mi l'ho abbassato mentre non ho trovato la casa mi ha trovato la casa mi sono venuto non ho trovato la casa mi sono venuto ma non lo affinam ma non si che si fai ma non ho pochè mi ha un uccato ora mi ora mi wille ora mi ha tempo non c'è un uccato vittaccio se fai è un uccato è un uccato ce il uccato è un uccato ma non è un uccato e i robot c'erano nella cassa ma non fatevano danno la corretta quindi erano fatte un'altra cosa e il video è bravo per farvi vedere i glitch comunque spero che il video vi sia piaciuto se volete vedere altri glitch le sto sperimentando se volete al canale iscrivetevi al canale e vi lascio che il video saranno qui passerebbe vi lascio che il video grazie per la visione ciao 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 ciao